Il diavolo sulle colline. Eravamo molto giovani. Credo che in quell'anno non dormissi mai. Ma avevo un amico che dormiva meno ancora di me e certe mattine lo si vedeva già passeggiare davanti alla stazione nell'ora che arrivano e partono i primi treni. L'avevamo lasciato a notte alta sul portone. Pieretto aveva fatto un altro giro e visto l'alba addirittura, bevuto il caffè. Adesso studiava le facce assonate di spazzini e di ciclisti. Nemmeno lui ricordava i discorsi della notte. Vegliandoci sopra le aveva smaltiti e diceva tranquillo, si fa tardi, vado a letto. Qualcuno degli altri che ci trottava dietro non capiva che cosa facessimo a una cert'ora. Finito il cinema, finite le risorse, le osterie e i discorsi. Si sedeva con noi tre sulle panchine, ci ascoltava a brontolare o sghignazzare. Si infiammava l'idea di andare a svegliare le ragazze o aspettare l'aurora sulle colline. Poi un nostro cambiamento di umore tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa. L'indomani costui ci chiedeva, che cosa avete poi fatto? Non era facile rispondergli. Avevamo ascoltato un ubriaco, guardato attaccare i manifesti, fatto il giro dei mercati, visto passare delle pecore sui corsi. Allora Pieretto diceva, abbiamo fatto conoscenza con una donna. L'altro non ci credeva ma restava interdetto. Ci vuole perseveranza, diceva Pieretto. Si passa e ripassa sotto il balcone, tutta la notte. Lei lo sa, se ne accorge. Non c'è bisogno di conoscerla, se lo sente nel sangue. Viene il momento che non ne può più, salta dal letto e ti spalanca le persiane. Tu appoggi la scala. Ma fra noi tre non si parlava volentieri di donne, non almeno sul serio. Ne Pieretto ne Oreste mi dicevano tutto di sé, per questo mi piacevano. Le donne, quelle che separano, sarebbero venute più tardi. Però adesso parlavamo soltanto di questo mondo, della pioggia e del sole, e tanto ci piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo. Una notte di quell'anno eravamo in riva al Po, sulla panchina del viale. Oreste aveva borbottato. Andiamo a letto. Accucciati lì, gli avevamo detto. Perché vuoi sprecare l'estate? Non puoi dormire con un occhio solo? Oreste, appoggiato sulla guancia alla spalliera della panchina, ci guardò di sottecchi. Io dicevo che in città non si sarebbe mai dovuto dormire. È sempre acceso, sempre giorno. Bisognerebbe far qualcosa ogni notte. È che siete ragazzi, disse Pieretto. Siete ragazzi e siete ingordi. E tu cosa sei, disse un vecchio? Oreste saltò su d'improvviso. I vecchi dicono, non dormono mai. Noi giriamo di notte. Vorrei sapere chi è che dorme. Pieretto ghignava. Cosa c'è? Dissi cauto. Per dormire ci vuol prima la donna, disse Pieretto. Ecco perché né voi né i vecchi non dormite. Sarà, borbottò Oreste, ma casco dal sonno lo stesso. Tu non sei di città, disse Pieretto. Per la gente come te la notte è ancora un senso, quello di una volta. Sei come i cani da pagliaio o le galline. Erano le due passate. La collina oltrepo scintillava, faceva fresco, quasi freddo. Ci alzamo e risalimmo verso il centro. Io rimuginavo la strana abilità di Pieretto a mettersi sempre con le spalle il sicuro e farci dire che eravamo degli ingenui. Ne Oreste né io, per esempio, perdevamo troppi sogni pensando alle donne. Mi chiesi un'ennesima volta che vita poteva aver fatto Pieretto prima di venire a Torino. Sulle panchine dell'aiuola della stazione, sotto l'ombra scarsa di quegli alberelli, dormivano a bocca aperta due pezzenti. Scamiciati, capelli e barbaricciuti, sembravano zingari. Ci sono i cessi a pochi passi, per quanto la notte sapesse di fresco ed estate, regnava in quel luogo un tanfo, un fortore, che sentiva della lunga giornata di sole e movimento e frastuono, di sudore e di asfalto consunto, di folla senza pace. Verso sera, su quelle panchine, oasi magra nel cuore di Torino, si siedono sempre donnette, solitari, venditori ambulanti, spiantati e si annoiano, aspettano, invecchiano. Che cosa aspettano? Pieretto diceva che aspettano qualcosa di grosso, il crollo della città, l'apocalissi. Qualche volta un temporale d'estate li scaccia e lava ogni cosa. I due di quella notte dormivano come morti sgozzati. Sulla piazza deserta qualche insegna luminosa parlava ancora al cielo vuoto, gettando riflessi su due morti. Gente a posto, diceva Oreste, ci insegnano come si fa. Si staccò per andarsene. Vieni con noi, disse Pieretto, a casa non ti aspetta nessuno. Nemmeno dove andate voi, disse Oreste, ma rimase. Prendemmo per i portici nuovi. Quei due, disse Piano, deve essere bello svegliarsi al primo sole in piazza. Pieretto non disse la sua. Dove andiamo? Feci fermandomi. Pieretto andò avanti qualche passo e si fermò. Capisco andare in qualche posto, dissi. Invece è chiuso dappertutto. Non c'è un'anima. Mi domando a cosa serve questa gran luminaria. Pieretto non disse al suo solito. E tu? Servi a qualcosa? Ma brontolò. Vuoi che andiamo in collina? È lontano, dissi. È lontano, ma sa quell'odore, disse lui. Ridiscendemmo il grande corso, sul ponte epifreddo. Poi attaccammo la salita a passo svelto per uscire dai paraggi noti. Era umido, buio, senza luna. Ballinavano lucciole. Dopo un po' rallentammo il sudore. Mentre andavamo parlavamo di noi. Ne parlavamo con calore. Tiravamo anche Oreste nel discorso. Quelle strade le avevamo percorse altre volte, scaldati dal vino o dalla compagnia. Ma tutto questo non contava. Era un pretesto per andare, salire, avere il grosso della collina sotto i piedi. Passavamo fra i campi, i recinti, i cancelli di ville. Fiutavamo l'asfalto e il bosco. Per me non c'è differenza da un fiore in un vaso, disse Pieretto. Per strano che paia, non eravamo mai saliti fino in cima, almeno per quella strada. Ci doveva essere un punto, un valico, dove la strada pianeggiava, il balzo estremo della costa, che io immaginavo come un'ultima siepe, un balcone aperto sul mondo esterno delle pianure. Da altri punti delle colline, da Superga, da Alpino, avevamo già guardato di là in pieno giorno. Oreste ci aveva additato all'orizzonte di quel mare di bricchi, ombre vaghe e selvose i suoi paesi. È proprio tardi, disse Oreste, qui una volta era pieno di locali. Chiudono una cert'ora, disse Pieretto, ma che dentro continua a far baddoria. Valla bene di venire in collina d'estate, dissi, per divertirsi a porte e persiane chiuse. Avranno un giardino, disse Oreste, dei prati. Dormiranno nel parco. Viene il momento che anche i parchi finiscono, dissi. Viene il bosco e la vigna. Oreste grugnì, disse a Pieretto. Tu non conosci la campagna. Giri tutta la notte, ma non conosci la campagna. Pieretto non rispose. Ogni tanto abbagliava un cane, chissà dove. Ci fermassimo, disse Oreste a una svolta. Pieretto uscì dai suoi pensieri. Tanto più, disse in fretta, che le lepri e le bisce sono ridotte sotto terra e hanno paura di chi passa. L'odore che regna è la benzina. Dove più la campagna è che piacerebbe a voi altri? S'attaccò a me selvaggiamente. Se qualcuno venisse sgozzato nei boschi, dichiarò con quel suo tono operentorio. Tu davvero credi che sarebbe una cosa leggendaria? Che intorno al morto tacerebbero i grilli? Che il lago di sangue conterebbe più che uno sputo? Oreste in attesa sputò con disgusto. Ci disse. Attenti, viene giù una macchina. Comparve lenta e silenziosa una grande automobile scoperta di un pallido verde e si fermò senza un sussulto tocile. Una metà rimase in ombra sotto gli alberi. La guardammo imperdetti. Hai fari spenti, disse Oreste. Pensai che ci fosse dentro una coppia avrei voluto essere lontano, sul valico, non aver incontrato nessuno. Perché non scattavano su quella loro meraviglia verso Torino e non ci lasciavano soli nella nostra campagna? Oreste disse a capo Chino di muoverci. Resentando la macchina mi aspettavo di udire sussurri e fruscii, magari ridere, e invece intravì di un uomo solo al volante, giovanotto riverso, con la faccia stravolta verso il cielo. Sembra morto, disse Pieretto. Oreste era già fuori dell'ombra. Andammo sotto la voce dei grigli e in pochi passi sotto gli alberi pensai molte cose. Non osavo voltarmi. Pieretto taceva al mio fianco. La tensione divenne intollerabile. Mi fermai. Impossibile, disse, quel tale non dorme. Di che cosa hai paura, disse Pieretto. L'hai veduto? Dormiva. Uno non si addormente in quel modo e sulla macchina in movimento, dissi. Avevo ancora nelle orecchie la sforiata di Pieretto. Passasse qualcuno? Ci voltammo a guardare la curva, nera di alberi. Una lucciola attraversò la strada balenando come una sigaretta che brucia da sola. Ascoltiamo se riparte. Pieretto disse che chi aveva una macchina simile poteva anche fare il suo comodo e guardare le stelle. Tesi attento l'orecchio. Magari ci ha visti. Vediamo se risponde, disse Oreste e cacciò un urlo. Lacerante, bestiale, cominciò come un boato e riempì terra e cielo, un mucito di tor che poi si spense in una risattaccia da ubriaco. Oreste evitò con un salto il mio calcio. Tendemmo l'orecchio tutti. Quel cane la trava di nuovo, i grilli tacevano sbigottiti. Nulla. Oreste aprì la bocca per rifare quel verso e Pieretto disse, pronti. Stavolta muggirono insieme, a lungo, con striduli ritorni e riprese. Mi si accapponò la pelle pensando che come il raggio di un faro nella notte una simile voce giungeva dappertutto, sui versanti, in fondo ai sentieri, nei grumi d'ombra, dentro le tane e le radici. E tutto faceva vibrare. Di nuovo quel cane impazzì. Ascoltammo, fissando la curva. Stavo per dire, sarà morto di spavento, quando sudì lo schianto di uno sportello d'auto richiuso di colpo. Oreste mi disse all'orecchio, adesso arriva la volante, e attendemmo fissando quegli alberi. Ma per un pezzo niente fu. Ormai il cane si era chetato e dappertutto era voce di grilli sotto le stelle. Noi fissamo quella banda d'ombra. Andiamo, dissi. Siamo in tre.